Dopo l'ennesimo cambio in giunta con la nomina ieri di tre nuovi assessori, Mancusi, Stasi e Carpentieri, entro fino ottobre ci potrebbero essere altre sostanziali novità per l'amministrazione provinciale di Salerno. Entro le prossime settimane, infatti, Cirielli dovrà decidere sulla ricandidatura alla Camera dei Deputati e per evitare il problema della ineleggibilità dovrebbe decadere dalla carica di Presidente. Una eventualità ormai prossima, criticata dal centro-sinistra, pronto alle barricate in Consiglio provinciale e chiamato ad esprimersi per tre volte sulla decadenza per incompatibilità entro il 28 ottobre. Una questione del tutto regolare invece per il Vice Presidente Antonio Iannone, destinato a reggere le sorti di Palazzo Sant'Agostino nei prossimi mesi. Non ho nulla da rispondere sul piano politico perché si tratta di una questione di natura strettamente istituzionale. Il Consiglio che è sovrano si determinerà in base a delle decisioni, poi naturalmente chi ha voglia di fare polemica politica per una pura contrapposizione di parte, ovviamente questo appartiene alla libertà dei partiti, dei consiglieri di argomentare le proprie ragioni. L'importante è non essere strabici ed incoerenti perché voglio ricordare che nel 99 quando Bassolino fu chiamato a svolgere il ruolo di Ministro del Lavoro di D'Alema, in carica a Napoli per un lungo periodo rimase il Vice Sindaco Marone e quindi la primogenitura su un tipo di procedura è stata proprio del centrosinistra e degli uomini che oggi sono all'interno del PD. Tecnicamente non ci sono ostacoli? Ma questo lo deciderà il Consiglio visto le motivazioni di fatto che si porteranno. I tempi sono fissati dalla legge, la legge dice che chi intende candidarsi al Parlamento deve rimuovere 180 giorni prima della scadenza delle Camere il doppio incarico che rende ineleggibile chi intende candidarsi, quindi rispetto a questi tempi il Consiglio si determinerà.